Allora, per incominciare, volevo iniziare con una tra le mosche più semplici che possiamo incontrare. Si chiama Peut ed è costruita esclusivamente con due materiali, che sono del filo di montaggio giallo, è una piuma di germana prelevata dal petto, è una piuma molto chiara e andrà semplicemente a sostenere e a determinare la gareggiabilità della mosca. È probabile che in altri dressing per il corpo vengano utilizzati altri materiali, ma dal momento che la piuma verrà a ricoprire completamente il corpo, secondo me non è necessario utilizzare altri materiali come la raffia, che potrebbero solo appesantire il corpo e non aiutare nella gareggiabilità. Quindi, un corpo molto sottile di filo di montaggio, è necessario lasciare una porzione abbondante, pari quasi a un terzo del gambo del lamo, per poter avvolgere la piuma, perché secondo me è necessario impiegare un po' di materiale per rendere questa mosca galleggiante, anche se nella realtà ha due utilizzi, perché molto spesso alla fine della passata si cerca di farla affondare, per cui è un equilibrio che bisogna riuscire a creare in questo caso di una mosca che galleggia, ma nello stesso tempo che possa con una piccola attrazione affondare alla fine della passata. in pesca. Io cerco sempre di predeterminare la quantità di piuma che poi verrà avvolta sul gambo del lamo. E' un'operazione semplice ma molto delicata, perché spessissimo avvolgendo il calabo si spezza. taglio l'eccedenza cercando di lasciare pulito l'occhiello, e poi molto attentamente la piuma va avvolta attorno al gambo del lamo. come potete vedere, portando indietro le piume si dispongono meglio. ecco, terminato l'avvolgimento, fermo la piuma con il filo di montaggio, taglio naturalmente la parte che non ci servirà, e posso già chiuderlo formando la testa. naturalmente la mosca non è ancora finita in questa maniera, è una delle poche piume che prevede la possibilità di essere tagliata, e quindi è necessario tagliare la piuma circa a un terzo della lunghezza del gambo del lamo. Dopo una piccola pettinata la mosca è terminata. ecco. ecco.